Maestro, possiamo fare una foto? Siete padroni, ragazzi, vi opriamo, vi ho detto bene, perché si accende in pubblico e della gente a tutta l'olio. Senta dottor, si può avvicinare un altro, sì? Se l'hanno mangiato lì? Dottore, maestro, sì, 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 si ricorda. Sì, siete un figliore, sì, 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 sì. Come si fa a non ricordare voi? Grazie a voi sono stato chiamato anche del giornale che si chiama Caserta C, è il giornale di Caserta. A Napoli siamo usciti su un mattino con la grande Sofia Loren, i cinque giorni che sono stati a Napoli e abbiamo fatto la città di Policionele con donna Sofia. Ma lei è attrezzatissimo qua, tutta roba che porta fortuna. Tutto bello, di batteria, di montaggio e di smontaggio, trasloca e gratis. In testa cos'ha? Chi è? I guain questo? Questa è una scimmietta chiamata da me, la sincera verità si chiama Maria Rosaria. Allora arriva Maria Rosaria e ci sono i giornali sulle rosse e tutti i commercianti, tutti i pubblici, tutta la gente fa i giornali sulle rosse che la campagna di Maria Rosaria e ci sono i giornali sulle rosse e ci sono i giornali sulle rosse e ci sono i giornali sulle rosse. Bravo, bravo, si giri un attimo, chiedo scusa, non per osservare il solato B, però la vediamo pieno di euro. Siamo pieno di paparelle, siccome prima, la verità, ci stavano le lire e allora con le 100 lire mi facevamo capi e croce, poi è sciuto l'euro e ora ci facciamo solo la rosse. Ma che è cipolla si fa una salata? No, questa è cipolla di tropea, quando si mangiano si prendono pena. I miei amici della televisione, della nostra, sono belli e grassi, ma è di provo, non è l'asse. Intanto questa è... Anche la televisione di prima classe. Grazie, lei sì che è pieno di energia, no? Sì, 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 io adesso la sincera verità sono venuta a trovare di nuovo, come l'altra volta, gli amici di Avellino, perché poi devo partire, con il vostro permesso, anche io devo partire per la villeggiatura. Senta, le do la mano che... Questa è la mano morta. No, allora fa la morire di... Ebbela, questa è la navegione o le male lingue? No, per la morire di... No, questo invece che sono? Questo è un grande bigliettino fortunato di Fortunatilla. Senta, ci fanno un po' che... come si dice, per occhi e malocchi, per i cantieri che purtroppo da anni qua sono chiusi. La gente va a Roma, va a visitare i Colossei, io sono tre anni che vengo a Polina e perché sempre sta piazza che si sta sempre facendo. Che io so se i figli miei la vedranno. E sciommacano poi. È una cosa pazzesca. Vanno a sciommacare. Questo vale per un magazzino per l'attima per tutti. Allora chi va male a sti magazzino, a una venustrappare di rina, a una scia, a una trasia, a una farmacia. Chi va male a casa mia. Siete belli e grassi, ma chi va proprio una classe. Perché siete un popolo di prima classe. Grazie, facciamo l'applauso al maestro. Con un grande bacione, vado a parto per la villeggiatura e andiamo a Carest. Si trova in provincia di Castong. Castong è Carest. Un felice giornato a tutti voi. Com'è il suo nome? Io di nome Tonino, in arte, Sosso48. Grazie, grazie Sosso.